Ad esempio i campi rom non devono esistere, non esistono neanche in Romania i campi rom perché sono cittadini con i diritti e i doveri di tutti gli altri quindi non esiste che ci sia qualcuno che paga le bollette, paga lo stazionamento solo ai rom, a Roma, o a tutti o a nessuno non si vede perché qualcuno deve essere privilegiato per il pagamento delle bollette e qualcun altro no vedo questo, l'immigrazione è un diritto ma da regolamentare se io voglio andare in Australia domani mi chiedono quanti soldi ho, se sto bene che lavoro faccio se non gli servo rimango a casa, altrimenti è un casino, altrimenti viene fuori tor sapienza e il signore dovrebbe capire che l'invasione incontrollata crea solo caos sociale